ben ritrovati di nuovo su review oggi vi vado a mostrare un altro prodotto che ho acquistato sempre da decatron online si tratta di una t-shirt per la caccia per la pesca io l'ho acquistata relativamente per la pesca per mimetizzarmi nella natura ma nulla vi toglie appunto di utilizzarla anche nella quotidianità andiamo a vederlo insieme il modello è il modello t-shirt 100 quindi si chiama così lo trovate nella colorazione verde camouflage come in questo caso quindi dei verdi sono attività chiaro scuro e poi trovata anche la versione completamente verde ho preso una taglia s mi va perfettamente con letto avvi c'è anche la marca sulla manica il materiale è traspirante poliestere traspirante e l'interno è completamente come vedete verde leggera quindi utile per la primavera o comunque anche l'estate e devo dire che riguardo al prezzo è un prezzo davvero molto accessibile l'ho pagata all'incirca sulle 8 bar 9 euro quindi un prezzo accessibile è un prodotto davvero carino la utilizzerò sicuramente per le mie sessioni di pesca e perché no magari anche per altre occasioni se siete interessati a questo tipo di video recensione fatemelo sapere vi lascio comunque il link del prodotto in descrizione se avete qualsiasi domanda non esitate a pormele fatemi sapere comunque cosa ne pensate di questo prodotto alla prossima review